GF VIP 7, George Chupilan parla dell'interesse per Ginevra e rivela se tra loro c'è stato un bacio. Fra le, poche, rivelazioni positive della settima edizione del Grande Fratello VIP che si è conclusa pochi giorni fa c'è sicuramente George Chupilan. Educato, gentile, di poche parole, il giovanissimo attore si è contraddistinto per un comportamento mai sopra le righe in un'edizione dove a farla da padrone spesso e volentieri sono state urle e exes litigate. Di recente, ha destato stupore una foto che lo ritraeva abbracciato a Ginevra Lamborghini. Flirt in corso fa i due ex VIP o ne ho solo una bella amicizia? Nel corso di un'intervista a The People, George Chupilan ha svelato come stanno esattamente le cose. George Chupilan ha poi raccontato con chi è rimasto in ottimi rapporti fuori la casa di Cinecittà. E a proposito di Nikita, l'ex concorrente del GF VIP 7 ha dichiarato di essersi chiarito con la modella triestina. E a proposito di un'intervista a Ginevra Lamborghini. E a proposito di un'intervista a Ginevra Lamborghini. Grazie. Grazie.